La Nissa pareggia il Palmindelli 1-1 con l'Enna, ma a fare più clamore sono stati i tafferugli iniziali prima del fischio d'inizio della partita di calcio. Una cinquantina di tifosi di Nissa ed Enna si sono scontrati proprio vicino all'ingresso dello stadio, ma l'intervento delle forze dell'ordine ha evitato il peggio. Pare che durante gli scontri ci siano stati alcuni tifosi che potrebbero avere riportato alcune ferite lievi e che nessuno di loro abbia avuto bisogno di recarsi al pronto soccorso. Adesso le forze dell'ordine sono al lavoro per identificare i protagonisti degli scontri.